Variante Gimarra, una storia di ignoranza e arroganza politica. I soldi pubblici vanno spesi per soluzioni utili, condivise e che guardino al futuro. Si apre così il volantino che il Comitato per la Salvaguardia della Trave, Arzilla e Gimarra ha distribuito nelle case dei Fanesi. L'obiettivo è quello di raccontare le criticità e le possibili alternative al progetto, sensibilizzando le persone a partecipare alla raccolta firme, per fermare quello che definiscono il più grande scempio ambientale della storia di Fano. Giorgio, quanti volantini sono stati distribuiti? Il Comitato Nuova Variante Trave e Gimarra ha distribuito più di 20.000 volantini sul territorio fanese, andando a coprire tutte le famiglie. La distribuzione è stata capillare e nel volantino riprendiamo i punti salienti delle vicissitudini legate alla Nuova Variante Gimarra e abbiamo illustrato con delle immagini abbastanza semplici, così lo speriamo, e con dei punti abbastanza sintetici, sintetici dei vari personaggi che sono intervenuti, dove uno può leggere tranquillamente e vedere cosa stiamo facendo e dove siamo arrivati. Risulta però anche il nome del sindaco di Fano Massimo Seri? Sì, abbiamo messo anche al primo posto, qui abbiamo messo Massimo Seri, il sindaco di Fano, però tra parentesi bisogna leggere anche nel periodo elettorale, perché questo era quello che ci aveva promesso a tanti cittadini che era stato sempre contrario a questa realizzazione, come tanti altri amministratori che l'hanno preceduto. Invece oggi pare che non sia così? Beh, oggi, ma noi qui solidiamo questa volta, abbiamo messo nel periodo elettorale, adesso vedremo un attimo, non sembra così proprio, anzi, da come ci risulta l'amministrazione, la giunta Seri sta continuando a sperperare del denaro pubblico, perché sta dando incarichi a destra e a sinistra, poco tempo fa era la sintagma, oggi c'è un altro consorzio, diciamo, di aziende, paghiamo sempre noi, soldi sprecati, soldi sprecati perché sono soldi che dovrebbero essere utilizzati per un'altra opera. Quella suggerita dal Comitato per il collegamento Nord consiste nella realizzazione, insieme ai comuni di Mondolfo e San Costanzo, del completamento delle opere compensative dal casello di Marotta alla rotatore di Tombaccia utilizzando la strada di mezzo, poi, adoperando le strade provinciali esistenti e i tratti già costruiti da società autostrade, il percorso proseguirebbe fino a collegarsi col futuro casellino a Fenile, infine il collegamento con la viabilità di Pesaro utilizzando, anche qui, viadotti e sottopassi già esistenti. Su questa linea, secondo il Comitato, l'amministrazione del sindaco troverebbe il pieno appoggio da parte della giunta regionale che, invece, non sostiene la variante di Gimarra, per la quale nega qualsiasi contributo economico. Una complanare che segua tutta la provincia pesarese e vada in Romagna, questa è la nostra soluzione. A breve cercheremo di fare un ulteriore incontro tecnico per cui magari rinviamo a quella sede i dettagli specifici. Come mai non condividete quel progetto? Allora, il progetto non viene condiviso perché, secondo noi, non si sposta il problema del traffico cittadino. Per spostare il traffico dal centro storico e dalla città di Fano bisogna fare una complanare, una strada che porti fuori, fuori delle mure, fuori di Fano. Qui, come vedete, siamo in piena zona residenziale, per cui portare il traffico qua e non avere risolto nulla, è spostare il problema da una zona all'altra. Non è la soluzione. Qui, come vedete, siamo in piena zona all'altra.